La decolonizzazione La lotta per l'indipendenza delle colonie è un processo lungo che copre i trent'anni dal 1947 al 1975. Dopo la Seconda Guerra Mondiale inizia infatti la cosiddetta decolonizzazione. In alcuni casi avviene in modo pacifico, in altri con scontri armati. Spesso inoltre è seguita dal neocolonialismo, cioè persiste la dipendenza economica dai vecchi dominatori. Molte ex colonie infatti restano molto povere. Esaminiamo prima cosa succede nel continente asiatico. Nel 1947 l'India diventa indipendente dalla Gran Bretagna grazie alla lotta non violenta di Gandhi. Viene però divisa in due stati, il Pakistan, di regione musulmana, e la Repubblica Indiana, a maggioranza induista, che entrano entrambi nel Commonwealth. L'Indocina, colonia della Francia, ottiene l'indipendenza nel 1954 dopo otto anni di guerra. Nascono tre stati, il Laos, la Cambogia e il Vietnam. Passiamo ora all'Africa. Delle ex colonie italiane, la Libia diventa indipendente nel 1951 e la Somalia nel 1960. In Algeria, invece, l'indipendenza dalla Francia viene ottenuta nel 1962 dopo una lunga guerra. Anche la decolonizzazione di Mozambico e Angola, domini portoghesi, dura molti anni, fino al 1975. Il Sudafrica, infine, benché parzialmente autonomo dalla Gran Bretagna sin dagli anni Trenta, continua a essere dominato dalla minoranza bianca. La politica di apartheid, cioè di segregazione razziale, viene abolita soltanto nel 1991 dopo anni di lotte, che hanno tra i protagonisti Nelson Mandela, poi eletto presidente nel 1994.